Oggi sulla bocca di tutti c'è il concetto di apprendimento automatico e soprattutto basato su simulazioni direi quasi neuronali del modo di intendere il mondo che viene chiamato deep learning. Il deep learning è sicuramente la tecnologia che oggi è più accessibile agli studenti che si approcciano all'intelligenza artificiale e sta dando maggiori risultati. Questo non necessariamente significa che sarà il futuro perché il deep learning oggi sta avendo risultati notevoli come la capacità di comprendere video, immagini, non solo testo e di far sì che sistemi come Facebook siano in grado di identificare con precisione l'immagine di ogni singola persona al mondo, cosa impensabile qualche anno fa. Stiamo arrivando tramite deep learning applicazioni come self-driving cars che fra qualche decennio saranno destinati a soppiantare l'utilizzo del lavoro umano per la guida delle autovetture e quindi trasformare completamente un'industria che dà al lavoro a milioni di persone. Ma questo non credo sia il futuro ma è più il presente. Il futuro dell'intelligenza artificiale è più legato alla capacità di sopperire, di aiutare diciamo la capacità degli esperti di dominio come per esempio medici, avvocati o persone che hanno una qualifica importante in una disciplina che richiede conoscenze nel loro lavoro quotidiano. Quindi non solo essere capaci di aiutare i guidatori delle auto o le persone del call center nel rispondere più velocemente o addirittura sostituendo parecchie di questa forza lavoro con robot, ma andare sempre più nella direzione di comprendere a pieno i settori disciplinari più, dove la competenza richiesta è più profonda. Questa è una sfida che richiede sicuramente l'utilizzo di reasoning, cioè di ragionamento automatico, di comprensione del mondo molto più raffinata di quella che oggi i computer sono in grado di fare. È quello di cui mi occupo io.